In questa lezione parliamo di una tecnologia molto interessante che ci permette di risolvere un problema che si verifica soprattutto quando lavoriamo con Lightroom in condizioni di mobilità, cioè quando abbiamo il nostro catalogo disponibile chiaramente, ma magari non abbiamo portato con noi perché non vogliamo o non possiamo il disco con tutti i nostri file originali. Se un file originale non è presente, abbiamo visto che Lightroom normalmente si rifiuta per esempio di farci accedere al modulo di sviluppo e quindi ci preclude tutta una serie di operazioni, compresa l'esportazione del file in alta risoluzione. Allora, la tecnologia delle anteprime avanzate, che è disponibile in Lightroom da alcune versioni, ci permette di risolvere questo problema e di essere produttivi anche quando siamo in condizioni precarie, diciamo di spostamento per esempio. In questo esempio vediamo una cartella con otto fotografie che sono in questo momento online, il disco esterno è connesso e quindi possiamo accedere al file originale. Se noi selezioniamo uno o più file, possiamo leggere qui al di sotto dell'istogramma, nel pannello libreria, alcune informazioni che riguardano la disponibilità dei file attualmente in linea. Abbiamo otto file originali in linea senza anteprime avanzate, vuol dire che se disconnettiamo il disco non saranno disponibili per l'elaborazione. Possiamo a questo punto che i file sono online, prima di lasciare la postazione e lasciare il disco esterno, creare le anteprime avanzate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in due modi. O ci muoviamo sul menu libreria e scegliamo dal menu anteprime, genera anteprime avanzate, ovviamente per la selezione in corso le otto immagini, oppure ancora facciamo clic molto semplicemente qui sull'icona delle foto originali in linea. In entrambi i casi Lightroom ci chiede e conferma se vogliamo generare le anteprime avanzate. Diamo la conferma, naturalmente, e entro pochi secondi avremo generato queste anteprime. Che cosa sono queste anteprime e dove stanno? Lo vediamo aprendo la cartella dove si trova il nostro catalogo. Ecco qui aperta la cartella sul Finder dove si trova il catalogo. Possiamo vedere che sono comparsi alcuni file accessori al catalogo stesso. Questo è il catalogo teacher.lrcat, il file di catalogo primario, 43 MB per circa 1700 scatti. Poi abbiamo il file delle anteprime, previous.lrdata, 182 MB che contiene tutte le anteprime calcolate alla dimensione impostata nelle preferenze. E poi abbiamo questo nuovo file che si chiama smartprevious.lrdata, ovviamente sempre con il prefisso catalogo teacher. In questi 14,8 MB si trovano gli 8 file che sono stati convertiti in anteprime avanzate. Due cose importanti, quindi. Le anteprime avanzate pesano molto poco rispetto ai file originali RAW. Sono nell'ordine di grandezza di 1-2 MB. Ovviamente dipende dal quantitativo di pixel. E soprattutto vengono memorizzate insieme al catalogo, esattamente nella stessa cartella. Quindi ci seguono quando spostiamo il nostro portatile, ad esempio, anche senza il disco esterno, che è quello che vado a fare adesso. Quindi io mi sposto nell'elenco dei dispositivi ed espello il disco esterno, che a questo punto non sarà più disponibile in Lightroom. Torniamo all'interno di Lightroom. Vediamo come i file siano tutti offline, ma questi file che noi abbiamo convertito in anteprima avanzata, e possiamo vedere da questa indicazione che i file hanno l'anteprima avanzata grazie a questa icona, possiamo anche verificare con una selezione multipla che non abbiamo file originali online e non abbiamo file misti, ma abbiamo otto file che contengono le anteprime avanzate soltanto. Le anteprime avanzate ci danno la possibilità di usufruire in pieno di tutte le funzionalità di Lightroom, nonostante siano salvate utilizzando una tecnologia che tende a risparmiare molto spazio. Quindi non solo possiamo vedere il file, anche se siamo offline, ma possiamo ingrandirlo fino al 100% guardando tutti i pixel del nostro file e soprattutto possiamo entrare nel modulo di sviluppo e anche nel modulo di esportazione, se vogliamo. Quindi all'interno del modulo di sviluppo vedete che ho comunque accesso al file, tutti gli strumenti del modulo di sviluppo sono disponibili, quindi posso regolare qualsiasi cosa e sono in presenza di un file RAW reale, quindi tutti gli strumenti funzionano come mi aspetto all'interno di un file RAW e posso effettuare qualsiasi operazione come se fosse in presenza del file reale. Quindi con poco spazio occupato sul mio hard disk e tra l'altro temporaneamente posso lavorare su questi file quando mi trovo per esempio in aereo oppure in giro e non ho a disposizione gli originali. Cosa succede quando vado a ricollegare il disco esterno? Succede che il disco torna online e quello che io ho realizzato sull'anteprima avanzata viene automaticamente trasferito sul file originale, quindi tutti i ritocchi vengono trasferiti sul file originale, non devo premere alcun tasto perché questa operazione viene fatta automaticamente e quindi a questo punto posso naturalmente in questo caso accedere dal modulo sviluppo e degli altri moduli al file originale alla sua massima qualità. Le anteprime avanzate non occupano molto spazio all'interno dei file di catalogo, però è vero anche che quando abbiamo terminato la nostra operazione di lavorazione offline potrebbe essere comodo eliminarle quando non ci servono più, quindi possiamo selezionare tutto il gruppo di fotografie se vogliamo e fare clic un'altra volta sul pulsante che ci mostra i file con anteprima avanzata e in questo caso Lightroom ci chiede se vogliamo eliminare le anteprime avanzate. La stessa cosa la possiamo fare dal menu libreria nella sezione anteprime, elimina anteprime avanzate. Confermiamo e abbiamo a questo punto ripulito il file di anteprime avanzate che ha liberato spazio nella cartella del catalogo. Quindi l'anteprima avanzata è un modo veramente molto furbo per lavorare specialmente per coloro che non intendono portarsi dietro sempre l'hard disk con i file originali.